La prima Assemblea Romana sulla Sinodalità è stata tenuta dal 4 al 29 ottobre scorso. Ufficialmente definita sedicesima Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, ma a buon ragione non dovrebbe chiamarsi tale, perché non è stato soltanto un Sinodo dei Vescovi, ma ai Vescovi, anche se dei Ure, soltanto sono stati equiparati anche i laici che sono stati invitati, i quali hanno avuto il medesimo diritto di voto su questioni riguardanti la fede, la morale, la prassi pastorale, qualcosa di atipico e quindi giustamente, come hanno notato diversi osservatori, questo Sinodo non si dovrebbe chiamare Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, ma essenzialmente già un'altra cosa. L'obiettivo di questo, infatti l'obiettivo di questo Sinodo sulla Sinodalità, in modo completamente differente da quanto era stato già fatto in antecedenza con i vari Sinodi, a partire da Paolo VI, non è discutere semplicemente di cose attuali, di problemi, ma soprattutto di provocare delle riforme, di riuscire ad avere dei cambiamenti significativi, non solo nella prassi, ma soprattutto nella dottrina della Chiesa, e farlo in modo sinodale. La logica dietro questo Sinodo è quella di ricostituire la Chiesa, purtroppo, sul modello della Sinodalità, e quindi andando a cambiare anzitutto la natura stessa del Sinodo, per poi provocare questi vari cambiamenti. Intanto partiamo dalla relazione di sintesi della prima sessione, pubblicata il 28 ottobre 2023. Qualcosa di singolare, direi, perché ci si poteva aspettare un documento molto più dirompente rispetto a quello che è stato pubblicato, visto che all'ordine del giorno c'erano tematiche scottanti, quali la benedizione di coppie omosessuali, il diaconato e il sacerdozio femminile, possibilmente anche il sacerdozio femminile, di questo si è parlato nelle riunioni sinodali, il superamento del celibato sacerdotale, eccetera. Però la disputa è stata molto accesa, la discussione è stata molto accesa, e credo che gli organizzatori non si aspettavano una reazione su questi temi chiave di quel tipo. Quindi, tra un tira e molla sinodali, gli organizzatori hanno sperimentato, si può dire, un dissenso non irrilevante su questioni fondamentali per il sinodo, e perciò il documento da questo punto di vista è risultato più blando. Per esempio la sigla così cara ai promotori del sinodo, LGBTQ+, cara poi al partito maggioritario del sinodo, del padre americano gesuita James Martin, non è neppure menzionata. Si dice di proseguire la ricerca sull'accesso delle donne al diaconato, con una domanda retorica e volutamente ambigua, si dice che alcuni si chiedono se la convenienza teologica del celibato si debba tradurre anche in un obbligo disciplinare, come se la disciplina poi non dipendesse dalla teologia e soprattutto dalla dottrina. Allora cosa dire? Si tratta di una marcia indietro rispetto ai desiderata studiati a puntino, in un'organizzazione curata a fine minimi dettagli? Non direi, non sembra. Si dovrebbe parlare piuttosto di un reindirizzamento di questo documento e della strategia sinodale. Infatti il documento conferma la visione di fondo di tutto il sinodo, tutta la mens del sinodo sul sinodo, che è il sinodo quale metodo che opera a lungo raggio per cambiare la fede con la prassi pastorale su questioni che risultano intoccabili se viste nel loro involucro dogmatico, ma che se rapportati al tempo e alle esigenze del momento possono dar luogo a risultati nuovi, quantunque, eterodossi. Espressione di ciò che riassume la mens dei precedenti documenti è quanto si dice al numero 15, paragrafo G, della relazione di sintesi, quindi l'ultimo documento pubblicato sul sinodo. Cosa si dice in questo documento, in questo paragrafo? Si dice praticamente che la grande tradizione teologico-morale e magisteriale della Chiesa oggi non è più in grado di capire i cambiamenti antropologici attuali, presenti, per cui con l'aiuto delle scienze, delle varie scienze, è necessario aprire a nuovi studi senza dare spazio a giudizi semplificatori, che potrebbero risultare offensivi. Praticamente si dice in poche righe, in un breve paragrafo, che la sapienza del magistero su questioni etico-morali non è più tale e quindi non bisogna più aspettarsi dalla tradizione e dal magistero recente una parola definitiva su quanto sta accadendo oggi sulla rivoluzione antropologica della nostra società, ma bisogna mettersi in dialogo con le varie scienze e soprattutto bisogna accogliere il dato delle nuove scienze e incorporarlo nella teologia e nel magistero, dimenticando però che soltanto il magistero della Chiesa può dare un giudizio sulla bontà o falsità morale degli atti morali e con il magistero quindi la teologia morale cattolica ci dice se un atto è moralmente buono o no, questo non ce lo dice la psicologia, non ce lo dice la sociologia e le altre scienze a cui si vuole attingere. Quindi questo non è accettabile, non è accettabile buttare, amare tutta la tradizione, il magistero teologico-etico-morale su questi punti per aprire quindi ad un cambiamento paradigmatico praticamente, anche se a lungo raggio. Questa mens sinodale, che è applicazione di un metodo sinodale, cambiare la Chiesa, l'essenza della Chiesa, che deve essere sinodale, e poi cambiare la fede e la morale della Chiesa, è qualcosa che viene proposto come metodo dal sinodo, ma che poi viene anche applicato da alcuni atti che sono all'ordine del giorno. Ne cito qualcuno per farvi avere un'idea, per darvi un'idea. Per esempio, questa necessità di accogliere il dato delle scienze e altre, nella fede, nella morale della Chiesa, nella teologia della Chiesa, è quanto si dice con il nuovo motu proprio, Ad Theologiam Promovendam, del primo novembre 2023, con il quale si va a ristrutturare l'Accademia Teologica Romana e si dice praticamente proprio questo, si dice che la teologia d'ora in avanti deve accogliere dentro di sé il dato delle altre scienze e lasciarsi modificare da questo dato. Questo è quanto poi anche emerso, prima che iniziasse il sinodo, nella fase romana ultima, dà le risposte di Francesco, Papa Francesco, ai cinque nuovi dubbi, a sottoposti da cinque cardinali. E, per esempio, già nelle risposte del Papa si paventava l'ipotesi, che non è tanto un'ipotesi, di benedire le coppie omosessuali, senza però mettere in discussione il matrimonio. Quindi, ancora prima che iniziasse il sinodo e che si discutesse quella proposta, il Papa aveva già comunque indicato la strada da seguire, in modo non tanto sinodale. Però c'è ancora un altro elemento che ci fa pensare a questa mens sinodale applicata, e il documento è una recente risposta del di Castero per la Dottrina della Fede, in relazione alla possibilità, tra le altre cose, di un transessuale di essere battezzato e di una coppia omoaffettiva, di presentare il figlio per essere battezzato. Quello che svalordisce, in questo ultimo caso, è che, a parte il fatto del figlio presentato dai transessuali, che non è il loro figlio, eccetera, il problema è che un documento di questo tipo ha già battezzato, se vogliamo, queste espressioni della cultura radicale di oggi. Un documento del di Castero per la Dottrina della Fede che fa suoi questi modi di parlare della cultura radicale di oggi, coppia omoaffettiva, che cos'è una coppia omoaffettiva, che cos'è un transessuale a livello naturale, non esiste, è una parola che non esiste, esiste nella cultura ideologica del nostro tempo, ma non è un concetto rivelato da Dio, non è un concetto che appartiene alla creazione né tantomeno alla teologia. Il fatto di inserire queste parole nel vocabolario teologico e dottrinale della Chiesa significa già aver battezzato questa ideologia e averla incorporata nella fede in qualche modo, poi sta lì, bisogna star lì a vedere se questo documento, se questa risposta è accettabile o meno, ma comunque il tentativo è quello di incorporare queste, questa nuova dottrina, se vogliamo, nel patrimonio cattolico. E questo è uno spaccato, diciamo così, del sinodo, della mens sinodale. Una mens sinodale che deve diventare un po' l'identità della Chiesa. È il sinodo che esprimerebbe l'identità della Chiesa. Una Chiesa in cammino che si fa, una Chiesa che è piuttosto un processo, una Chiesa che passa da una fase più statica, gerarchica, piramidale, a una Chiesa in movimento che si edifica strada facendo, ma partire dalla base e invertendo l'ordine. Quindi, chi sta in alto deve stare in basso, chi sta in basso deve essere in alto. E quindi, è una, è una Chiesa capovolta, chiaramente, è una Chiesa che deve essere ricostituita in modo sinodale. La giustificazione teologica di questo capovolgimento starebbe nel sensus fide di tutti i fedeli. Il sensus fide sarebbe l'autorizzazione a privilegiare la base rispetto alla gerarchia, quindi il popolo di Dio. Però, il sensus fide è sì l'adesione dei fedeli ad una proposizione di fede in quanto è istinto a credere, perché viene dalla preghiera, viene dal fatto di credere. Ma il sensus fide stesso, seppur un atto soggettivo del credente che prega, che vive in comunione con la fede, che custodisce la Chiesa, è comunque un atto, è un atto soggettivo, ma che deve essere conforme alla fede oggettiva della Chiesa. Quindi, alla fides quae, alle dottrine, alle verità rivelate da Dio e fedelmente insegnate dal Magistero e alcune di queste anche definite in modo infallibile. Pertanto, il sensus fide non può diventare una sorta di percezione personale della fede o addirittura una sorta di parlamento dove ognuno in base al suo sensus fide dice quello che vuole credere lo propone al sinodo e il sinodo in modo così piuttosto comunitario parlamentare lo discute e poi lo approva. Questo non è possibile. Questo sinodo comunque viene collegato nella sua nuova identità alla collegialità e al diciamo al Vaticano secondo. Dovrebbe essere a giudizio di Papa Francesco espressione della collegialità episcopale. Una collegialità anzitutto affettiva più che e ancora prima di essere effettiva. E' una collegialità che che riflette una legge della conciliarità. Questa legge della conciliarità è qualcosa di molto caro ad alcuni esponenti di rilievo del Vaticano secondo e della post-Vaticano secondo della fase della recezione del Vaticano secondo. Quindi una sinodalità sui generi sui generis che è eco del principio o della legge della conciliarità. La chiesa governata dalla conciliarità diventa in questo modo essenzialmente sinodale. Una chiesa conciliare e una chiesa sinodale. Una chiesa sinodale è espressione di una chiesa conciliare e in questo c'è il legame simbolico più che altro del sinodo con il Vaticano secondo. Un legame ideale, quasi un completamento direi nella mens di Papa Francesco del Vaticano secondo nel sinodo sulla sinodalità che è soprattutto una sinodalità in atto come la conciliarità in atto che si manifesta attraverso una collegialità che non finisce sempre in atto una collegialità sempre in atto che poi è chiaramente il modo scorretto di intendere la conciliarità del Vaticano secondo quasi per in qualche modo bilanciare il primato petrino e quindi il porre sullo stesso livello del primato petrino il collegio dei vescovi e invece questo è sbagliato come del resto sottolinea la nota previa all'Human Gentium il per venire un po' più al cuore diciamo di questa sinodalità di questo sinodo sul sinodo questo sinodo sinodale non so come dire un sinodo che parla di se stesso alla fine che indaga su che cosa è il sinodo ma con una una mens come vi dicevo ben precisa dovremmo dire che l'intenzione e la volontà primaria di questo sinodo lungo che è un processo è allargare lo spazio della chiesa far sì che la chiesa diventi una tenda allargata e infatti era questo il titolo di un di un altro documento che segnava il la tappa intercontinentale allarga lo spazio della tua tenda presentato pubblicato nell'ottobre del 2022 cosa si diceva questo documento poi era l'ultimo documento della fase preparatoria per poi arrivare alla fase romana appena conclusasi lo scorso ottobre cosa diceva questo cosa diceva questo documento allarga lo spazio della tua tenda diceva praticamente che la chiesa è una tenda allargata nella chiesa c'è spazio per tutti bisogna fare posto a tutti e spazio per tutti ma senza stare lì come ad una dogana a guardare i documenti ad esigere una conversione ad esigere un cambiamento di vita rifiutare a rinunciare al peccato di questo non si fa parola sembra che non ci sia più bisogno di una conversione per poter far parte del corpo mistico di cristo ma siccome la chiesa è una tenda larga una stanza senza muri se vogliamo in questo modo c'è spazio per tutti e la ragione di ciò è data si darebbe nel fatto che lo spirito santo sarebbe l'artefice di questa di questa tenda allargata di questa di questo superamento se vogliamo del limite imposto dalla verità e dalla dottrina di gesù cristo quindi il con la visione sinodale con questa visione nuova sinodale si prova anche a proporre a promuovere una nuova teologia dello spirito santo è infatti uno del dei numeri recenti di civiltà cattolica ospitava un articolo di un padre gesuita joss munz proprio su questo aspetto contribuire ad una nuova verso diceva il sottotitolo una riconfigurazione pneumatologica della chiesa praticamente che cosa propone quest'autore propone di vedere non solo lo spirito santo dipendente da cristo ma anche cristo dipendente dallo spirito santo e questo si evincerebbe dal vangelo di luca dal vangelo di luca in cui non si dice che capitolo ma si può supporre che ci si riferisca al capitolo quarto quando gesù dopo essere stato battezzato viene portato dallo spirito santo nel deserto per essere tentato dal diavolo il fatto di essere guidato dallo spirito nel deserto potrebbe dar vita a questo a questa nuova teologia in cui cristo dipende dallo spirito santo che significa praticamente che la verità deve dipendere dall'amore dalla volontà dalla ispirazione però si dimentica che lo spirito santo è lo spirito di cristo lo spirito che viene inviato da cristo è il paraclito che guida la verità tutta intera alla verità che è cristo e quindi non c'è una opposizione in ogni caso tra lo spirito santo e cristo lo spirito santo è sempre solo lo spirito di cristo per concludere per venire ad un tema conclusivo di questo mio intervento e capire un po' anche la pericolosità di questo di questa mens sinodale che è un metodo vorrei parlarvi del di quello che mi sembra essere un po' l'anima di tutto che è un pensiero filosofico che sta alla base di questo modo apparentemente teologico direi di procedere il pensiero filosofico che viene sposato da questa mens sinodale da questa metodologia sinodale sembra essere il pensiero di Hegel e cioè un metodo dialettico di idea in sé idea fuori di sé idea in sé per sé idea cioè sintetica la dialettica del tesi antitesi per poi arrivare ad una sintesi perché vi dico che forse c'è qui il pensiero di Hegel bene bisogna partire dal presupposto che la chiesa viene vista come la chiesa stessa è una chiesa in uscita uscita che non significa semplicemente lasciare la sacristia e andare fuori per evangelizzare il mondo no non si tratta di evangelizzare il mondo nel modo classico di questa parola secondo quanto ci ha detto Gesù nel Vangelo ma significa piuttosto uscire per cercare di conformarsi al mondo in qualche modo quindi essere al pari con il mondo perché in fondo la chiesa deve mettersi in ascolto del mondo e questo mettersi in ascolto è il sinodo che deve essere deve uscire una chiesa che esce da se stessa per accogliere ciò che è altro da se stessa e così diventare più cosciente di se stessa questo è il metodo dialettico ed è questo che viene enfatizzato nel è stato enfatizzato lungamente negli anni di preparazione e poi sembra essere il dato più rilevante dell'ultimo documento per poter accogliere ciò che è altro da sé senza più giudicare senza più chiedere i documenti la carta di identità per entrare nella chiesa questo è possibile solo se si esce da sé per poter incontrare ciò che è altro da sé la negazione di se stesso chi è altro chi vive in un altro modo e non intende cambiare come lo si fa come si fa ad accoglierlo dentro di sé e appunto in modo dialettico con una sorta di 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 battaglia che c'è nella logica che è cara ad Hegel del servo padrone questa logica servo padrone è la logica che genera la dialettica ed è una logica necessaria perché nel mondo dice Hegel nella storia dagli inizi dell'umanità c'è sempre stata una lotta tra chi è più forte e chi è più debole e questa lotta che sembra essere una una lotta impari è in fondo qualcosa di necessario è necessario perché perché è grazie a questa a questo scontro frontale tra l'in sé e il fuori di sé che il soggetto lo spirito può diventare più cosciente di sé stesso perché lo spirito è cosciente di sé soltanto nella misura in cui esce fuori di sé e accoglie ciò che è altro da sé ciò che è la negazione di sé ecco allora la negazione di sé stesso la negazione della negazione per essere ancora più precisi è la posizione è l'affermazione quindi lo spirito che è dentro di sé è cosciente ma solo di sé nella misura in cui esce fuori di sé accoglie la negazione di sé il padrone che confligge con il servo in questa lotta con il servo con ciò che è la negazione di sé stesso è contro sé stesso soltanto in questa in questo in questo scontro lo spirito diventa assorbendo sussumendo dentro di sé quello che fuori di sé è diverso da sé diventa più cosciente di sé stesso sa che cos'è veramente e quindi si passa a giudizio di Hegel all'autocoscienza l'autocoscienza è il ritorno del soggetto dentro di sé ma portando il dato che ha trovato e che ha il dato che apparentemente era negazione ma che superato con questa dialettica diventa posizione diventa comprensione migliorata di sé stessi ora voi mi direte ma sembra una cosa astrusa una cosa piuttosto così dialettica sì ma troppo filosofica non mi sembra che sia troppo filosofica perché perché per esempio c'è qualche affermazione anche del nei documenti del sinodo in cui si si vuole questo passaggio per esempio l'instrumentum laboris al numero 25 dice proprio così una chiesa sinodale promuove il passaggio dall'io al noi perché costituisce uno spazio all'interno del quale risuona la chiamata ad essere membri di un corpo che valorizza le diversità ma è reso uno dall'unico spirito e il passaggio da lì al noi è il passaggio dal dallo spirito in sé dall'idea in sé all'idea fuori di sé per ritornare in sé per sé dello spirito dello spirito che chiaramente non è lo spirito santo ma è lo spirito è il pensiero che pone la realtà perché spirito e pensiero e realtà in Hegel sono la stessa cosa ed è lo spirito poi che diventa in questo processo dialettico assoluto chi è lo spirito assoluto qui se vogliamo fare un'analogia con questa accoglienza dell'altro da sé del peccato di colui che non è per sé conforme alla fede della chiesa alla morale della chiesa chi è lo spirito assoluto è lo spirito autocosciente e chi è lo spirito autocosciente in questa dialettica è il sinodo stesso quindi quindi il fine della chiesa diventa lo spirito il sinodo il sinodo stesso il sinodo è la nuova chiesa che si deve costituire e che si costituisce attraverso questo processo questo processo storico processo dialettico e non sembra poi così distante dalla realtà perché perché l'accettazione della propria contraddizione della propria negazione è necessaria per poter generare il superamento e l'accoglienza dentro di sé della della negazione quindi la grazia se non ha lo scontro con il peccato che è la negazione di sé stessa non diventa grazia cresciuta non diventa grazie autocosciente di sé stessa ecco si può accogliere tutti si può diventare tenda allargata aperta tutti nella misura in cui prendo nella misura in cui accolgo tutte queste queste negazioni accolgo queste contraddizioni grazie a tutti